All'onore in sante et individue trinitatis, all'exaltazione in fidei cattolica e vite cristiane incrementum, autoritate domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac nostra matura deliberazione preabita e divina opes sepius implorata ade prolimorum fantorum nostrorum consiglio beatos Ioannem Baptista uns Calabrini, et artemidem sati, santos esse decernemus e definimus, a santorum catalogum adibemus, statuentes eus in universa eclesi intersantos pia devosione recoli debere, in nomine Patris et Filii et Espiritu Santo. Amen. Amén. Amén.